Soltanto uno. Gli avatar stanno arrivando. Chi stai delirando? Non so dire come sia successo. Si è aperto un link, una via d'accesso. E si sono proiettati nelle aree degli avatar dal mondo virtuale. Cosa? Che sembra incredibile. Qualche peggio? No. Ecco. No, no, no! Seguiamo il bisogno del momento! Cresciamo con la faccia! Mai più ragionamento! E' lei che mi rompa. E' lei che mi insegna i classici come lettura. Un umanesimo, sola cultura. Chi è questo? Non lo sa, un nuovo. State tranquilli, lasciatevi andare, che ci sono qua io a guidare. Mi aiuto io a risolvere il dilemma, perché non c'è un solo spettacetto. Ma dare la propria in totale confusione, in modo che ne vaccini la ragione. Nel suo certezza, soltanto, confusione. Confusione. Mi dispiace ma stavolta, è la sola soluzione, confusione. Per chi mi vuole un massamato, il baccalassio, la ragione, confusione. Per chi ci vuole un massamato, il baccalassio, la ragione, confusione. Realizzate il desiderio del momento. Per il resto di te non ci sento. Pensate con la faccia, il ragionare, ciancia. Seguite il vostro istinto. Chi ancora non è convinto? Se mi vede a dare un pugno, io lo do e non ci penso. Se ci viene un peso, la peggio è più di chi non ce l'ha preso. Comunque! Wow, quanta bella gente! Seguite me e non mi perderemo di niente. Sono Miss Moda, la stilista ti grida. Wow! E che bello vento, voi due avete capito tutto. Ci scommetto. Beh, se qui la moda non è un difetto. Al contrario, se siete fulmi, fate altri tanto. Voi non sapete davvero quanto. Siete felici e avvarati. Inossando abiti griffati. Imitando i lettori preferiti. Le stessi gusti, le stesse ritmi. Sei il finale, sei il fenomenale. Quello è il mio mondo, il mio giro. Ecco il successo a cui aspiro. Stiga ad avere tanti schei, però. Basta scegliere. Basta scegliere da chi di perdere. Basta scegliere da chi di perdere. Basta scegliere da chi di sdegnare. Chi si presenta tra l'adatto. Sarà subito ammarginato. E da fattorino verrà trattato. Miss Moda, la stambiglia. Allora, la stupolata. Più che altro che ti ha stegato. Venite con me e avrete tanti abiti da spoggiare. Grande firme da indossare. E lui è per lui. Scegliere, ragazzi. No, per consenso. Avremo d'accordo che sono sicuro. Che spagno, gente. Questa cica divertente. Questa cica è un po' di perdita. Scherzate. A me pare impietate. Quase. Quasi storie. Quello e nero. Che per noi si sa. A me pare una cosidiana. I want my part. E che mi chè. La tecnologia è un'autentica magia. Facebook sai. Twitter lo sa. Gioca per noi a chi più ne ha. Sono qui per voi. Da tipi digitali. Guardo gli aggiuntamenti speciali. Voi. Inbili contro il corpo e la rete. Di tecnologia avete fatto il sete. Lasciatevi guidare. Girate le spalle alla vita reale. Seguite la vita ideale. In Facebook. Siete chi volete. Ogni scelta è personale. Basta un A e sei per perdita. Senta un ripeto. Né uno scoletto sul tuo misero. Né doppio meri. Né un più spedita. Basta un A e sei per perdita. Bravissimi. Ma la cosa più importante è sparare a tutti quanti. Eliminare. Schiacciare. Cancellare il nemico. Con i giochi spavano tutto. Meruo. Cade i tuoi. O star can de force. Sì. Il gioco è la luta. Esbole. Carli e due. Dino cinque. Sapete come funzionano. Attenti agli ordini. Scatate. Inseguite. Sparate. Fate mea. E se per caso morite. Tornate indietro. E ritornate in terra. Cominciamo. Tu con me. Tu con me. Tu con me. Sì. No. Voglio stare con Sara. Che c'è stato? Io non so con Sara. È del mio paese. Io non so. Io non so con Sara. Io non so con Sara. Mi fa troppo ridere. Mi sto qua a Jessica adesso. Ma insomma. Ma ci deve essere un nemico da ammazzare. Da odiare. Altrimenti non si può giocare. E allora. Il nemico. Non so se avete capito. A me non serve la vostra compassione. A me non serve la vostra ribellione. A me serve la vostra obbedienza. Ciao. Come si sono un giocatore. Mentre fuori senza. Sicurarsi. Io voglio divertire. Io non battere i denti. Voglio accettarmi. Accettare. E allora affinatevi. Allo schermo incollatevi. Guardate il mio campione. Kikomori. Vieni fuori. Che putza. Fosti giù. Occhio. Chi sei? Occhio. Vieni fuori vedere. Non si può chiedere a un Kikomori di mostrarsi. Parlare. Uscire fuori. È un recluso volontario. Se ne sta intalato. Dal mondo reale si è ormai sganciato. Al mondo virtuale è sempre collegato. Sì va bene. A costruire avatar invincibili. Interscambiabili. E ruaturi. Sì va bene. Vabbè a te i muri. Lui vive in rete. Adotti speciali. Ha sconfitto migliaia di nemici. Sì ma. Migliaia di nemici. Ma non capite. Degli amici in carne e ossa. Non se ne fa niente. Può assumere qualsiasi identità vincente. Sì ma. Ma non firao. E questo lento. Idea. Vinciamo. Sì. Così ci liberiamo. Già è convinto. Ci liberiamo. Rivederemo in Kikomori. Lo vogliamo. Con lui nel mondo virtuale ci giupiamo. Andiamo, 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 andiamo